Fino all'Orto degli Olivi, gli Apostoli accompagnano il loro maestro all'Orto Algetesemini. Poi lo abbandonarono, anche se poco prima gli avevano giurato fedeltà fino alla morte. Questa infedeltà invece certamente procurò a Gesù un altro colpo di dolore. Gesù, mentre va verso l'Orto degli Olivi, cerca di parlare agli Apostoli e di anticipare quello che stava per soffrire. Questa notte prenderete scanto a mio riguardo perché sta scritto, percuoterò il pastore e le pecorelle del greggio saranno disperse. I discepoli rimangono sconcertati di fronte a queste parole di Gesù che sono riferite a loro, non sono parole così in campatinario, e giurano fedeltà ad ogni costo. Gli Apostoli avevano appena partecipato alla cena dell'ultima cena e, possiamo dire, avevano fatto la prima comunione, perché in sostanza è stata la prima volta che gli Apostoli si sono eccipati dell'Eucharistia. Nello stesso tempo, quella sera, in quella cena, ci fu l'ordinazione sacerdotale degli Apostoli. Quindi è un momento bellissimo della spiritualità degli Apostoli, ma dell'attenzione amorosa del Redentore Cristo Signore. E quindi vengono meno, nonostante queste donne ricevute nell'ultima cena, vengono meno. Perché? Perché si sono fidate delle proprie forze. Siamo sicuri di non sbagliare. Certamente ti saremo vicino sempre. E hanno sottovalutato la loro umanità. Nel cammino spirituale non si può essere sicuri pongiando sulle nostre forze. Abbiamo bisogno sempre dell'aiuto di Gesù, che ci deve aiutare a portare la croce. Deve Lui essere un po' il nostro Cire Deo. Quante volte anche noi abbiamo protestato al Signore fedeltà fino alla morte. E poi, e poi, e poi, e poi. Dobbiamo imparare a diffidare di noi stessi. Quanto il Salvatore questa mancanza di compassione e comprensione da parte dei suoi discepoli. Questo sentirsi solo abbandonato nell'agonia della morte. Anche la nostra povera anima umana sente in modo acuto, specialmente nell'ora del dolore, l'amarezza dell'amore, dell'uso e della solitudine. È triste quando si piange e ci si sente sotto il peso del disastro, del dolore, non avere a fianco una parola calda di affetto, una mano che si pogge sulla nostra testa e che accarezza i nostri capelli. Siamo deboli, siamo creature umane. Anche Gesù però era debole e aveva bisogno di conforto. E questo gli venne a mancare. Inevitabilmente all'abbandone della vigilanza e della preghiera non si vede il pericolo, ci si sente superiori, ma proprio quando siamo sicuri possiamo sbagliare. La sicurezza in noi stessi, che ha anche un senso di orgoglio e di superbia, quindi effetto di passioni, possono portarci alle estreme conseguenze. Affidiamoci a Gesù, che ha sofferto l'esperienza del dolore e della morte prima di noi e che ci dia la forza di superare per essere con Lui trionfanti nella risurrezione. Grazie. ... Grazie per la visione!